Santa Maria, adonata! Del crocifisso è rimasto soltanto il busto. Braccia e gambe sono andate in frantumi. Eccolo il Cristo di Bojacka, simbolo del dolore vissuto dalla Colombia. Santa Maria, adonata! Questo crocifisso è quel che resta dello scontro tra FARC ed Esercito Nazionale di Liberazione. Era il 2 maggio del 2002, 15 anni fa. L'esercito assedia la chiesa di Bella Vista, a Bojacka, e usa i civili come scudi umani. Le FARC sparano e lanciano bombe. 119 morti, fra cui 45 bambini. Questo crocifisso resta come simbolo e oggi domina la scena al centro del grande incontro per la riconciliazione con Papa Francesco. Io nel conflitto di Bojacka ho perso amici e parenti, racconta Maria, presenti a quello scontro. E quando vedo questo crocifisso penso al nostro dolore, al nostro paese. Ma la visita del Papa traccia per noi un futuro diverso. Villa Vicenzio accoglie Papa Francesco, una visita della durata di poco più di 10 ore nella città simbolo del conflitto armato che ha lacerato la Colombia con più di 8 milioni di vittime. E non è un caso che la visita si compia di venerdì, giorno in cui la chiesa fa memoria della passione del Signore. Ma da qui la speranza riparte attraverso la via della riconciliazione. Ecco perché, nonostante sia frantumato, il Cristo di Bojacka è segno di rinascita. O Cristo, tu vengarai con tu, tu vengarai con tu, tu vengarai con tu. Grazie.